In attesa dei dati ufficiali sulla presenza turistica nella nostra regione, in particolare sulla nostra costa, primi timidi bilanci, tutti al momento positivi. A fare un'analisi sommare della situazione del vicepresidente di Federalberghi della provincia di Pescara, Riano Tocco, anche alla luce di una serie di confronti con molti suoi colleghi non solo dell'area pescherese, ma anche dell'intera regione. Una stagione che è partita sicuramente con un segno abbastanza preoccupante, ricordiamoci che giugno ha avuto dei valori abbastanza sotto la media rispetto all'anno 2018, una stagione che poi ha ripreso bene a luglio e ha avuto il clui in agosto, siamo sicuramente soddisfatti di come sono andate le cose, come stanno andando, si è lavorato bene, anche il prodotto Abruzzo ha mantenuto il mercato a nostro avviso, sono ancora presto per fare un bilancio effettivo delle presenze, però parlando con i miei colleghi, l'area è questa qui, una partenza stento e poi la macchina si è avviata, le conferme ci sono state, anche l'annualità 2018 è stata per la nostra destinazione una situazione buona, speriamo di poter mantenere qui in un numero, perché sarebbe già un ottimo risultato, dovuto anche al fatto che il prodotto Italia, Maritalia, ha avuto una flessione generale, dovuto anche alle contingenze, al fatto che i prodotti esteri hanno ripreso il mercato e quindi combattere in questa crisi non è stato facile, speriamo di avere dei buoni risultati alla fine. Guardando anche in prospettiva, al di là dei risultati positivi di quest'anno, pensando al nuovo governo regionale, quale altre misure mettere in campo per crescere di più l'attrattiva? Io credo che la sinergia sia la base di tutto, sinergia tra operatori del settore e tra la politica stessa, potenziare l'aeroporto di Pescara che deve essere quello il volano principale per poter captare quei flussi di mercati che arrivano, che devono arrivare dai mercati esteri, abbiamo avuto un incremento del mercato estero, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni anche dei B&B, delle case per vacanza, però bisogna programmare un mercato estero e andare a gridare quei mercati che per noi sono appetibili, Grazie a tutti!